Ciao a tutti, quest'oggi si è appena conclusa la gara qui a Minsk e delle qualifiche per le finali di domani. Ale, come ti è andata la gara? Allora, in generale è abbastanza bene, tranne il nastro che mi sono impicciata un po', però sono abbastanza felice. E a te, Mile? Allora, oggi sono molto soddisfatta del lavoro che ho eseguito, ho avuto una piccola imprecisione nei passi ritmici al nastro, mentre ieri ho eseguito una buona esecuzione alla palla e al cerchio un po' il giro non è andato molto bene. Però, insomma, nel complesso siamo contente e speriamo bene per le finali di domani e basta. In bocca al lupo a noi. Grazie per averci seguito e continuate così.